Vittoria doveva essere, vittoria è stata. L'Avellino Under-17, guidata dal tecnico Alessandro Fabbro e Corsaro Assesso San Giovanni. Battuta 1-0 la Pro Sesto, nell'andata dei quarti dei finali dei play-off di categoria. Decide la rete di Edoardo Donardo, arrivata al 73esimo minuto, quest'ultimo figlio di Gaetano, ex difensore di Lavellino. Un passo in avanti importante verso la qualificazione alle semifinali dei play-off. Domenica prossima, 5 giugno, è in programma il ritorno del match, ore 11, sul sintetico del partenio Lombardi di Avellino. Si ripartirà dall'1-0 dell'andata e la terza vittoria consecutiva per la formazione irpina che nei turni precedenti aveva battuto la Viterbese per un risultato complessivo di 5-1. Squadra che in stagione ha stupito tutti, tifosi e dette lavori. Lo scorso stagionale parla chiaro. Prima dei play-off ha visto la formazione irpina vincere 13 partite su 18 gare giocate. Tre pareggi e una sconfitta. Migliore squadra anche per numero di clean sheet in Italia.